ciao mi chiamo simona e sono un'educatrice del nido di infanzia il grillo parlante di finale miglia purtroppo quest'anno non possiamo accogliervi nei nostri servizi per il consueto pendei quindi mi farebbe molto piacere accompagnarvi in questo nostro tour virtuale cosa ne dite venite con me eccoci stiamo per entrare però prima dobbiamo assolutamente compiere semplici ma importanti gesti il nido ospita bambini dai 6 e 36 mesi e si compone di tre sezioni piccoli medi grandi in questo momento dove la tranquillità il primo posto le sezioni sono vere e proprie bolle autonome quello che state vedendo sono gli spazi educativi dove noi educatrici e dei nostri bambini trascorriamo le nostre giornate ogni ambiente è a misura di bambino ed è predisposto per promuovere la loro autonomia il nido è un luogo di vita fondamentale della crescita del bambino è pensato per il vivere quotidiano ideato per crescere e stare bene insieme questi spazi sono anche abitati dai nostri genitori con i quali ci piace scambiare opinioni dubbi ed idee purtroppo quest'anno abbiamo dovuto sospendere questi momenti ma contiamo di recuperare appena la situazione sanitaria ce lo permetterà ed ecco il nostro grande e meraviglioso giardino che ci permette di fare tante attività all'aria aperta sia in inverno che con la bella stagione lo spazio esterno è la nostra aula cielo aperto dove si apprende rispetto per l'ambiente dove è consentito ai bambini di esprimere la propria fisicità dove si fanno nuove scoperte e nuovi incontri come vedete qua di fianco c'è la scuola dell'infanzia con la quale promuoviamo un progetto di continuità educativa attraverso visite attività e colloqui in questo modo accompagniamo i nostri bambini nel dedicato passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia la nostra visita volge al termine è il momento dei saluti ma speriamo di incontrarvi presto all'interno dei nostri servizi